buonasera buonasera sono passati un po di mesi ma lei in quell'occasione primo nostro ospite la prima puntata dell'anno e ci raccontò della sua esperienza di angelo del fango a firenze nel 1966 ecco credo ci sia addirittura anche una foto dell'epoca bersani quindicenne ecco che cosa direbbe al titolare di quella pizzeria mamma mia ma no direi a tutti gli altri cioè quello è recuperabile cosa vuoi farsi niente da fare invece noi tutti dobbiamo dire dignità del creato e dignità del lavoro cioè gli slogan adesso devono essere quelli lì e gente che la pensa così va lasciato indietro ponte basta cosa vuoi dirgli ecco senta lei dice dignità del creato e dignità del lavoro in emilia se ne è parlato tanto in questi giorni si è costruito forse troppo anche nelle aree alluvionali ma sì guardi quello è un problema un problema serissimo no c'è troppa occupazione del suolo l'emilia romagna è nei punti alti seppur dietro lombardia veneto campagna eccetera lo si spiega ma non lo si giustifica col fatto che stiamo parlando di una regione che nel primo dopoguerra era fra le due o tre più povere del paese ha avuto uno sviluppo incredibile anche abbastanza ordinato ma molto impegnativo per sul suolo per l'antropizzazione investimenti industriali e poi un'altra cosa che in modo ingeneroso non si ricorda mai è che quella regione lì insomma per uno che dal nord vuole andare al centro al sud deve passare di lì e quindi le autostrade le ferrovie i metanodotti gli attraversamenti dell'appennino sono tutti emilia romagna detto questo il problema c'è bisogna entrare nella logica che siamo in un'altra era climatica e adesso la regione ha fatto una norma che diciamo blocca mettere le paratie ai piani regolatori bisogna approfondirla bisogna velocizzarla e d'altronde c'è un passaggio di fase storico sul fatto climatico e siamo tutti quali più quali meno tutti assolutamente parametrati su un'altra fase se non partiamo da lì il pil non è più l'unico totem l'unico sacro totem ma il pil come ci raccordava sempre vao kennedy si può fare in tanti modi non è questione il pil lo si può fare in tanti modi se invece di fare investimenti per fare che ne so delle mega opere fai un grande piano di piccole opere per risanare l'appennino spendi gli stessi soldi fai la stessa crescita aumenti lo stesso pil ma ti cambia ti cambia la prospettiva questa settimana ci siamo tutti interrogato quando abbiamo visto il via libera del senato al ponte sullo stretto di messina ci siamo chiesti ma in questo momento a noi servono di più le grandi opere o servirebbe di più usare quei benedetti i soldi del pnr e agli altri a disposizione per ricucirlo sto paese per rimetterlo in sicurezza ma guardi io sono un figlio dell'appennino no ho sempre avuto chiarissimo che appunto la grande opera per noi è un piano di piccole opere noi dobbiamo sapere razionalmente che l'appennino viene giù viene giù è una conformazione recente molto friabile chiamiamo frana franetta un fenomeno che abbraccia i decenni c'è dei secoli che si porta giù l'appennino noi spopolandolo stiamo accelerando questo fenomeno quella sarebbe una grande sfida che interessa il nord il centro il sud perché unisce l'italia a questo problema per bacco adesso non ho tempo di mettermi lì a dire delle proposte ma è chiaro per ammordire non ho niente concettualmente incontrato sul ponte lo stretto ma mi scandalizzo che si pensi di spendere 14 miliardi mentre abbiamo dei problemi di questa natura qui così come mi scandalizza mi lasci dire una cosa sull'Emilia Romagna la Romagna e i fratelli e le sorelle della Romagna io mi è venuto un colpo quando ho visto questa roba qui no? però dopo due secondi li ho visti subito li ho riconosciuti subito l'intelligenza la creatività per esempio nell'invertire il flusso del canale Emiliano Romagnolo una cosa delicata complicata la generosità di sta cooperativa di braccianti che gli dice invadeteci i campi che salviamo le case questi saranno nei guai per tre o quattro anni è vero ho la fantasia del bagnino che col pedalò va a prendersi l'anziano cioè quella lì è gente così per favore meloni parlamentari partiti non buttateli in politica non pensate di passare sopra la testa di questa gente applicate la cosa meravigliosa che fu fatta regole, procedure, interventi col terremoto del 2011 li si prende tale quale hanno funzionato benissimo con rapidità, efficienza, trasparenza e legalità per bacco però io sono stupefatto che sento di quelle cose che immaginandomi dice l'angelo del fango immaginandomi quelli lì che spalano e sentono questa discussione commissario sì, commissario no i soldi non i soldi ma ragazzi ma ci rendiamo conto? cioè, attenzione bene perché poi quella lì è gente che sa il fatto suo ecco tra l'altro un'altra cosa che volevo chiedere ma noi in generale perché spendiamo più dopo per i soccorsi e spendiamo invece poco prima per la prevenzione? perché la politica non conviene la prevenzione? non porta voti? guardi guardi che per fare un'opera da noi ci vogliono tre, quattro, cinque anni pacifico non per farla per la fase precedente che abbiamo deprivato la pubblica amministrazione i comuni le province delle strutture tecniche non ci piove però certamente io l'ho fatto troppo tempo l'amministratore per non aver visto un cambiamento enorme e cioè politica amministrazione e comunicazione che si reggono ormai come le due carte da gioco appoggiate ragionano solo sul breve chi è oggi che fa qualcosa che va sottoterra che non si vede noi disperdiamo metà dell'acqua nel sistema idrico ma insomma la priorità se non è legata alla comunicazione non funziona una volta c'erano questi grandi partiti che ti garantivano il consenso di lungo tu potevi anche azzardare a fare una cosa che non si vedeva ma insomma potevi andare avanti tranquillo qui siamo troppo sul breve non è questione prevenzione andare dopo è questione del meccanismo politica comunicazione questo è il punto è ininaugurabile un canale di scolo chi andrebbe quale assessore non vede l'ora di andare a tagliare il nastro lì è proprio una cosa ininaugurabile ininstagrammabile per citare le cose non puoi diventare quando invece tu inauguri un ospedale un centro commerciale un asilo tutte cose sia chiaro molto meritorie c'è la corsa a farsi vedere col nastro anzi molto spesso moltiplicano i nastri gli si inaugura all'inizio la prima pietra la seconda pietra la centesima pietra l'inaugurazione vera quando entrano queste invece sono delle opere funzionali fondamentali decisive ma che non danno il like su instagram non c'è un nastro da mettere e da tagliare in compenso Barsani poi abbiamo scoperto questa settimana che invece quando qualcuno denuncia un problema non viene ascoltato avrà letto anche lei sui giornali l'ex manager di autostrade Gianni Mion che racconta che un tecnico dice nel 2010 dice è a rischio questo ponte e non è successo nulla lui ha detto provo un certo rammarico ecco altro che rammarico lei cosa ne pensa? ma insomma sdegno e vergogno anche per loro poi io penso un'altra cosa una cosa a cui sono sempre stato contrario che ho sempre combattuto no il monopolio di un privato su un bene pubblico no non può essere ti prende la mano chi controlla ma controllare è più complicato di gestire quando quando tu affidi a un privato un bene pubblico strutturale indispensabile chi è che lo controlla? un ministero ma non facciamo ridere è così tu non devi consentire cioè prima di privatizzare devi liberalizzare cioè avere un progetto industriale che dica che c'è un regolatore che dica che ci sono diversi soggetti che siano messi in equilibrio in una possibile concorrenza e con una struttura centrale nella rete e il controllo della rete che sia di controllo pubblico di controllo pubblico la interrompo perché guardi che ci ha raggiunto eccolo qua Roberto sono qua mi vedi? ci ritroviamo ci ritroviamo Roberto cosa hai portato tu? hai portato qualcosa da fargli vedere? no io ho portato una cosa da farti vedere che è una chicca immensa poi tu mi darai il tuo parere ma forse non la conosci questa chicca vediamo fargliela vedere fargliela vedere Martin Luther King 60 anni fa esattamente nel 1963 fece un grande discorso in cui disse I am a drink io ho un sogno noi democristiani we have a drink abbiamo un sogno Fatò Cuffaro we have a drink abbiamo pochissimi secondi ma mi sembra che si sia già la la risposta Pierluigi si sta rivoltando nella tomba lei ce l'ha un drink? no no ma secondo me perché io non si rivolto nella tomba perché lui Martin Luther King era compassionevole verso le miserie umane quindi lui penserà vabbè a me è mandato il Nobel a questo qui gli danno il bicchiere d'oro e vinita lì viva il drink e grazie con questa immagine salutiamo Pierluigi Bersani grazie grazie Bersani grazie davvero grazie di cuore